Amici carissimi benvenuti dopo tanto tempo quando feci quei video run to plot diecimila anni fa ho deciso di colmare le lacune il tempo dove non carico tanti video stupidi semplici gameplay in ranked che tanto gioco sempre da solo a sto punto registro quello che faccio e non mi rompete il cazzo che faccio troppi pochi video perché io prima di essere uno youtuber come dico sempre sono un giocatore e in quanto giocatore io devo giocare e se mi metto a registrare faccio il cazzone non mi concentro e scendo in bronzo ma proverò a fare un tentativo fino a che non vado in lusinsprie assurde continuerò a fare gameplay comunque ho iniziato questa nuova serie la chiamerò tipo rankeggio mix una cosa del genere qualche cagata che poi penserò dopo metterò ovviamente rank tagliate perché anche atti interi con la mia connessione ci metterei un millennio e ranked di me che faccio cose e vado in platino diamond challenger perché sono fortissimo anche se ho la telecamera alloccata ragazzi mi raccomando risparmiatevi commenti sulla telecamera mortimam sulla telecamera alloccata perché non la cambierò mai eccolino il provolone io con le blank non so minimamente farmare infatti scommetto che mi ritroverò tipo a 20 minuti con 50 minion ma con 8000 kill perché io sono ancora bronzo dentro kill maggiore farm comunque ragazzi approfitto di questo momento per parlarvi un po' allora parliamo un po' del mio canale la gente continua a scrivermi nei commenti ma link of my run è in effetti signori io ho detto che l'avrei fatto verso metà febbraio avete tutta la ragione nel mondo perché c'è comunque gente a cui piace e immagino che volete vedere come va a finire eccetera lo capisco però diciamo che video tipo non drogatevi mai queste cose qua che edito in 10 minuti esatti cioè 10 minuti di tempo dell'editing fanno più visualizzazioni di league of parola che perdono tipo 3 giorni 4 giorni di montaggio e non ha senso come cosa che io mi devo fare il mazzo triplo e non li cagano quindi ne ho deciso di mettere un po' più di hype nel senso ve li guardate di più ve li masturbate su quelli ve li strunzo ve li rimangiate li condividete così quando farà tante visualizzazioni non voglio i like basteremo che la gente lo guardi e che piaccia io poi ne farò perso il cannon far sto blado quanto è bello la musica in giapponese ragazzi vi consiglio di metterla e farmo male farmo male farmo male troppo male farmo male oddio delle situazioni in top lane ehi poppy lascia fare a me grazie per questa kill delivery la saprò usare al modo giusto rip nasus grazie per la kill adesso vado in base a comprare tante caramelle bravi bot lane bravi fatemi vincere voglio andare platino un'altra volta ehi piccolo negro credo di aver guadagnato un piccolo vantaggio in danno thunderlord ahhh dovevo tornare indietro prima aia wow queste sue tecniche mi fanno proprio piangere ciao niana e qui guata cata cata cica caca caca camo ti rompo il culetto mamma mia ho buttato tutto pure ignite bello le blanco premi ttata stiera cosi fai le kill bada 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 buba bada bada buba e ma mi stilo a quella kill e mi faccio mi spaccio oh mio dio mori ok scambi di flash Ecco qua Ma vai dietro nel tempo E la shot Ecco qua Nice feed On my mid laner Diana Thank you for the feed Su questo piccolo negro Scarso di merda Savapi Feed the line Amore Amore Perché non torni dietro nel tempo Amore Vuoi morire Amore Comunque ragazzi Ora che ci stavo pensando E' vero che siete abituati ai miei video Che sono tutti belli Non lo metto proprio in dubbio Cioè ogni mio video è bellissimo Da ditemi un video che è brutto Cioè non per vantarmi No ma ci metto sempre tanto impegno Con ogni singolo video Quindi Siete abituati Sempre a cose Che dovrebbero far ridere Insomma cose serie Non le metto quasi mai Quindi se casomai Questo video lo vedete Un po' troppo serio Perché ovviamente Non faccio cazzone di dati Cioè Eeeh Grazie Dicevo Non sono un cazzone sempre Quasi Quindi casomai Vai via Vai via dalla mia lane Per favore Ah Che cazzo Tesoro Ma mi asce Non vedo Ecco Bello E manco la flamma E manco la flamma E manco la flamma poppy Ah guarda Mi sentimo proprio pacifico Vai ah beta l'amore Che ci prendiamo quella rossa Rossa di capelli Golosa di uccelli Beta beta Ah no C'è Nesas Nesas Bobby Bobby Vieni qua Bobby Ho buttato tutto a caso Però Le blanco Quando si fida Domani sono bravo Però eh No Diana Non avete visto nulla Eeeh Ah beh pure lui Non scherza Ecco Sei off tank Ecco Non ho skill Cooldown Cooldown Nesas Fanno vocucias Sona Fanno vocucias Ok Penso che è ggvp Ggvp Il surrend Eeeh Vai Che bello Ok Ragazzi Abbiamo finito questa ranked Ventino Che scopi di lp Come fa forte a fare meno danno di me Cioè E' più danno di me Ma come Ma io sono un assassin NAP Ero ultrafiddato 5-6 Grazie Riot Per aver creato dei tank Che fanno più danni di tutti Grazie Seconda ranked ragazzi Sempre mid Io metto Primario Top lane Che sarebbe la mia Main lane Con Garen Che qualche volta vi farò vedere Magari nel prossimo Che davvero Giocare con Garen E' davvero Un miraggio E' amica Che dici Volete invadere Stronzi Ah Fai danno Fai danno E' strozza Vabbè Arriverò in lane Con i minion Spero Far sto blado Grazie ragazzi Che bello Quando trovi un team Che non fida Ma ti aiuta A carriare Chiare Gragas Per fare una curva Ah Gragas Cazzo Veloce Di me Oh Ah Sto flash prepotente E' bello Non me l'aspettavo No Io penso Che abbastanza vita Non penso Che l'ammazzavo Poi C'ha ancora le emozioni Biscotti Quindi con le emozioni Si carica instant E' l'ignite Ne va Fanculo Non richiamare La mia attenzione Sai come vorrei farmare Sto perdendo Un sacco Di minion Ma però Forse facciamo Una kill E' morito E' morito Che vale Non succede niente Perdo solo minion Ma quanta gente Oh Ok A te ci penso Io Ok Non muore nessuno Perché ho usato Due emozioni Oh Oh Non ho mana No dai Che tristezza Non ho manco Flashato Che imbecille Eh Scusami caro Non so Grazie amici Ruba farm Quella me la prendo io No Mamma mia Quanto è bello Il range Di azir Il danno Di azir Zir Zir Bbia 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 Bba Bbia Bbia Ok Ok Viene il flash Forse mi ha salvato Sta avendo Kragas Forse mi metta la torrozza Si Ok Ah, che pare l'auto di Dredd Non muore nessuno Cazzo succede Così fa Gianna Ecco qua Non sto concludendo nulla Forse è meglio se me ne vado Povero qui Non succede un cazzo? Ma quella sarà che aver morto Oh, ma no Perché non me li danno mai E muore E muore E muore Si pusha No, si va Gianna, vuoi baiare, Gianna A spie 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 Adesso dai Queste colpazze Sono vivi Non so Vabbè, io lo faccio Stanno arrivando Vai via Warwick Ok Perché me lo butti addosso È bella Un'altra Ultima Che cazzo succede Non so chi colpire Come colpire Dovevo 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 uccidere Soraka Che cazzo sto facendo Non c'ho manco il morello Le cure Non le abbasso Sono scarso La mia vita Finirà Tre persone Del culo No Torre Salvami tu Salvaci tu Torre Conti di Kindred Grazie Kindred Non serve a un cazzo Ok, ho fatto una kill Ah, il Baron Troll L'abbiamo preso Nore almeno Credo Comunque raga I video di Dark Solo Che ho fatto Vedo che stanno piacendo Anche se il mio canale Principalmente di Roll Quindi mi fa piacere Perché mi piace tanto giocare a Dark Soul Ne farò volentieri altri Se non vi da fastidio Oh Beiteroni Beiteroni Ci portiamo via Warwick 4v5 GGQP Ragazzi Non ingaggiate mai Da soli Anche se vi sembra una buona occasione Se il team non vi segue Non è mai Una buona idea Ingaggiare da soli E mandare a puttare L'intero team Ah Vienite qua Teneroni Sì, Kindred Saulti Non cambierà un cazzo Bella Gianna Che l'ha buttata fuori Non cazzo Non so che cazzo fare Con azito Nei team fight Panico Non capisco un cazzo Di come controllare Le guardie GGVP Due ranked vinta di fila Strano Sarà il potere del record Perché io perdo sempre Invece quando registro Begain Ah Un'altra win 21 LP Prossima Siamo in promo Magari Fra due ranked Non lo so Comunque ragazzi Fatevi sapere Se preferite di più Farlo in questo modo Cioè Un paio di ranked tagliate Una ventina di minuti di video Tagliati O se preferite Un gameplay intero Di 30-40 minuti Con tutte le scene Non solo Quelle più importanti Ci vediamo al prossimo video Non so quanto Non sapere Iscriviti anche Sulla pagina Facebook Ragazzi Un bacione Ciao